Buongiorno ragazzi, doppia uscita italiana questa settimana, due film di cui, visti i magrissimi incassi di questi primi giorni, evidentemente non ve ne frega proprio un cazzo a nessuno. Direte che ho tutto sto solo e pare già a primavera, ci ha acceso alle allergie eppure è arrivato per davvero il coronavirus, te pare che stanno a macchiuto in un cinema? Giustamente. Io sì, però. Vabbè, fatto sta che è uscito La mia banda suona il pop, la nuova commedia di Fausto Brizzi, con tra gli altri Cristian De Sica e Diego Batantuolo. Fausto Brizzi, con la solita lungimiranza di una buona fetta della critica italiana, fu accolto come una boccata d'ossigeno nel mondo della commedia nostrana, quando nel 2006 sfondò al botteghino con il suo esordio notte prima degli esami. Penso di essere tra i 5 in Italia e non hai mai visto quel film. Anzi, con mi madre sei. Il primo e unico film di Fausto Brizzi che mi è capitato di vedere al cinema è Ex, la sua terza fatica. Intanto gran parte della lungimirante critica italiana nei confronti di Brizzi aveva già fatto inversione a U e io quel film lo trovai abbastanza irritante. Molto poco divertente e con una fastidiosissima patina alla pellicola pseudo-internazionale. Aspetto questo che in generale sta anche peggiorando, nell'illusione forse che così si possono raggiungere i mercati esteri, quando poi mi sembra che l'effetto invece è proprio l'opposto, eh? In my only opinion, of course. Vabbè ragazzi, altre piccole chicche personale. Ho controllato l'intera filmografia di Cristian De Sica, che come sapete ha centinaia di pellicole alle spalle. E beh, io andando a vedere questo film al cinema solo per voi, mi imbatterò di nuovo in Cristian sul grande schermo dopo ben 26 anni. Sì ragazzi, mi portano i miei amichitti delle medie a vedere SPQR nel 94, dopodiché mai più visto un film D e con De Sica al cinema. Unica accezione del Tourist, dove vabbè, ha un piccolo ruolo in una produzione hollywoodiana, insomma, niente a che vedere con De Sica che intendiamo noi, ecco. Dal trailer pare che a sto giro Brizzi abbia spinto parecchio sul versante triviale, con parolacce, peti e rutti. E come potete facilmente immaginare, questa cosa un po' mi turba. Anche per quanto riguarda la seconda uscita italiana della settimana, siamo di fronte ad una commedia, ma probabilmente di tutt'altro stile. Parliamo di Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio. Dopo anni da sceneggiatore, Di Gregorio esordì già sessantenne come regista e attore con la pellicola Pranzo di Ferragosto, che ottenne un discreto successo uscì anche in Francia, io lo vi di apparire più in parte. Gli ingredienti di quel primo film sono poi tornati anche nei lavori successivi, tutti volti verso una comicità estremamente pacata e romana. Ecco, sono pellicole che fanno dell'esilità narrativa a una cifra stilistica, e in anni in cui le produzioni italiane sono ossessionate dai pitch, dalle storie forti raccontate in due frasi ad effetto, beh io non posso che simpatizzare per il nostro Gianni. Che infatti se ne fotte dell'impatto immediato e si concentra sulla scrittura dei particolari e dei personaggi e soprattutto delle battute, riva Dio. Infatti raga, esili quanto che pare, ma a me i finti di Gregorio strappano sempre belle risate, con quel profumo di comicità romana, tipico di una commedia all'italiana di un tempo, ormai dimenticata, perché oggi faccia sono sempre ci forte. Peccato che poi in sapete scrive, manca una battuta e faccia ride, tacci mostra. Anche a sto giro Gianni di Gregorio è sia dietro che davanti la camera, e a dividere la scena con lui, Giorgio Colangeli e Ennio Fantastichini. Ecco due paroline su Fantastichini ci tengo a dirle, intanto perché purtroppo se ne è andato proprio poco più di un anno fa, quindi questa resterà la sua ultima prova. Inoltre è un attore che ho sempre apprezzato molto e ebbi modo di contattarlo quasi 15 anni fa, quando lo volevo come coprotagonista del mio cortometraggio, e nonostante fosse un ragazzetto qualsiasi, lui fu molto carino e gentile. Poi la cosa non si fece per una questione di disponibilità. Quindi Ennio, grazie di tutto. Giorgetto e il professore, due pensionati nella calda Roma estiva, campano alla giornata maturando il sogno di espadriare. Coinvolgeranno nel loro bislacco progetto anche Attilio, e tutti e tre si saranno da fare per trovare la meta del loro viaggio e i soldi indispensabili. Commedia della terza età, con tre anzianotti romani, buffi e confusi, che Di Gregorio racconta lungo una settimana scandita giorno dopo giorno. Lo stile dell'autore si conferma sempre lo stesso, e il piacere del racconto è tutto in piccoli momenti del quotidiano, definiti anche con poche battute ben calibrate senza alcuna frenesia. Che bello poter respirare al cinema, gustarsi le prove attoriali, i particolari anche solo di uno sguardo, di un silenzio, di una smorfia e soprattutto di scene scritte privilegiando il tratteggio dei personaggi e dell'ambientazione, con un divertimento che non scende a compromessi con il ritmo e l'immediatezza. Guardate, due gocce di sangue gliele do. Ma solo perché come sempre Di Gregorio sceglie di non spingere sulla cattivevia e il cinismo, volendo fin troppo bene i suoi personaggi e di conseguenza mitigando un po' la portata assoluta del film. Ma sti cazzi ragazzi, questo per me, al di là di quanto sia riuscito meno, è cinema, e non perché l'ho visto sul grande schermo, ma perché chi lo fa sa cosa raccontare e come raccontarlo. Alle nuove generazioni di sceneggiatori e registi italiani, un consiglio, andatelo a vedere, poi tornate a studiare, eh? I quattro ex componenti della band musicale di Popcorn, meteora degli anni 80 con almeno due hit di successo, oggi sono la frutta. C'è chi canta ai matrimoni, chi suona per strada, chi ha seri problemi con l'alcol e chi viene mollato dalla moglie che lo mantiene. L'occasione di una reunion verrà data da un fan miliardario russo che grazie al denaro saprà far mettere da parte gli attriti mai assopiti tra i quattro disgraziati. Ma la trasferta musicale in Russia nasconde più di un colpo di scena. Ho capito, però, manco iniziò a parlare. Scusate, io solo una cosa voglio dire, ma Brizzi, gli altri tre che l'hanno sceneggiato con lui, i produttori, tutto il cast, ma se non vandavate farlo sto film, ma perché l'avete fatto? Ma che vanno obbligato? Cioè, è una cosa proprio da far cascare braccia, una sciatteria, manco va faccia la recensione, non va a meritare, ecco. E mezza goccia va, regalo giusto per le canzoni. Vabbè ragazzi, la settimana prossima piccola pausa, ma torno presto, sempre col solito grande entusiasmo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.